Ladri di nuovo in azione nell'area industriale di Poggilupi a Terranova Bracciolini. Dopo i colpi messi a segno alcuni mesi fa al Viandante e poche settimane fa all'interno dell'azienda Termolana, questa volta i malviventi hanno preso di mira il grande negozio di articoli sportivi Nencini. Poco prima delle 1 della notte tra sabato e domenica, i gnoti hanno infranto una finestra del resede e sono entrati all'interno della struttura smurando la piccola cassaforte a muro che si trovava nell'area uffici. Poi sono scappati. L'azione è durata pochissimi minuti e quando sul posto si sono portati tempestivamente le guardie giurate e i carabinieri della compagnia di San Giovanni, i ladri erano già lontani. Il bottino ammonterebbe a poche migliaia di euro. Le ricerche ovviamente sono partite immediatamente, ma dei malviventi al momento nessuna traccia.